Ultimamente sento a te decidere la strada io resto dietro di te raccogli sassi o tondino una scatola quadrata o un passatempo inutile sinceramente da un po' si 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 viva la giornata non posso dire vino usciamo fuori dal quartiere una volta al mese solo di sabato ma pensa che coincidenza chiedi un autografo all'assassino guarda il colpevole da vicino e approfittati che resta dov'è toccagli la gamba fai una domanda cattiva spietata con il foro d'entrata senza visto l'uscita è stato lui io lo so no no non credo alla campana e mi non sentisti perché praticamente ero io un centurione con la spada e non lo posso difendere mi ricordo quando ci fu Galileo e Giovanna d'Arco ero presente in piazza provavo un menso piacere mi sentivo bene a venire come si muore e senti un'altra razza chiedi un autografo all'assassino guarda il colpevole da vicino e approfittati che resta dov'è toccagli la gamba fai una domanda a ruba chiedi un autografo all'assassino chiedi il poster è la vicino e approfittati che resta dov'è toccagli la gamba fai una domanda e per il tuo tempo di cantunca spietata e la mia curiosità impregnata mi pioggia a te lo descriva o che sa una trapattista è una domanda e per il tuo tempo di cantare Grazie a tutti. Grazie a tutti.